Un cordiale saluto amici di WeSport e bentrovati con la Ravenna Top Cup, terza giornata del girone D per il Messina che dopo una vittoria ed una sconfitta chiede strada alla Nagadomo Academy, si gioca al campo San Zaccaria a Maglia Rossa, inserti gialli per la formazione di mister Umberto Fabiano, tenuta invece celeste per i ragazzi nipponici, si parte col film del primo tempo, 60 secondi, riesce qui molto bene Galvagna a lanciare il compagno De Luca che entra nella di rigore e vince un rimpallo, poi cerca lo scavetto sull'uscita di Corinti 1-0 del Messina che parte fortissimo, continua a spingere la compagine bianco scudata, sarà un monologo per tutto il resto del match, qui dalla destra è Calabrese a penetrare, cerca la conclusione, incrociare il portiere Corinti è bravo a metterla in calcio d'angolo, il Messina a sinistra, out preferito in questo match, De Luca cerca il cross per Trimarchi che la tocca, non imprime però potenza, ancora De Luca scatenato sull'out mancino, mette il pallone in mezzo, respinta è la difesa giapponese che in qualche modo libera l'area, Galvagna la riprende al limite, vuole il destro, Corinti si accartoccia, si resta sull'1-0 al San Zaccaria quando Barbarino cambia passo a sinistra, passa in mezzo a due, ancora Barbarino che poi bravo a metterla in verticale per il compagno Mangiola, il tentativo col destro respinto da Corinti, ancora Mangiola mette in mezzo, lì c'è Trimarchi che deve solo spingere in rete, 2-0 della Messina, De Luca ancora ubriagante, riesce a superare l'avversario, mette dentro Trimarchi se la ritrova sul secondo palo, aggancia poi prova a girare da buona posizione, fallisce il 3-0, Calabrese dalla destra mette il pallone in mezzo, Corinti respinge, arriva ancora lui Calabrese, primo gol nel torneo 3-0 della CR Messina quando siamo a fine primo tempo dove i primi 20 minuti al San Zaccaria è triste per la formazione di mister Umberto Fabiano che parte forte anche nella ripresa, ancora De Luca, pallone messo in mezzo, deviato da un difensore, arriva la doppietta del numero 11, il 4-0 dei Peloritani, qui invece Puglisi va a vuoto, prova allora ad attaccare la Nagatomo Academy, Villar è costretto all'intervento, arriva il conseguente cartellino rosso, finisce la partita dell'estremo difensore del Messina, Messina che dunque rimane in 10 uomini ma riesce comunque ad organizzare manovre offensive in area di rigore, si gira e cerca la conclusione, poi Ferrara subentra nell'azione, un difensore giapponese chiude tutto ma il Messina ne ha di più, anche fisicamente con Morvillo che entra in area, vuole il destro, respinto da Corinti, finisce così la partita e la Messina sale a 6 punti nel girone D della Ravenna Top Cup, prossima sfida al Medicina Fossadone alle 17.15